Ti sei fatta male? Sì, molto! Ma che fai? Ridi? E l'hai detto tu che quando uno si fa male si deve ridere? Ti sei fatta molto male, vero? E si è fatta male! Vieni, vieni, che ti aiuto! Fai piano! Ecco, metti la mano qui! Ecco, ecco così! Ecco, basta! Siamo arrivati! Ecco, adesso stai... Ma cosa fai? Lo sai che hai delle belle orecchie? Forse è ora di andare a dormire! Buonanotte! Buonanotte! Elia, hai aggiustato l'auto della signorina Elisa? Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ma che ore sono? È tardissimo, sono le sette. Buona notizia, il sole splende e la macchina è riparata. Buongiorno, Elia. Buongiorno, anzi arrivederci. Volevo salutarti, perché devo lavorare. Ci vediamo quando passo per Milano. E hai intenzione di venirci presto? Sì, fra tre o quattro anni. Ai! Cosa c'è? Ai, il piede, mi fa male. Sai quella brutta caduta di ieri? Credo che mi si sia gonfiato. Ti fa male qui? Ai sì. E qui? Ai! Anche qui? Scendi. Provo ad appoggiare la gamba. Ai! Ai no! Ai, non posso camminare. È un dolore tremendo. Mi dispiace doverti dare altro fastidio. Ma come vedi non posso andare via. Va bene, ti manderò il veterinario. No, io mi conosco. Ho già preso una storta un'altra volta. Niente di preoccupante. Un paio di giorni di riposo e mi passa tutto. Perché non rimani un po' con me? Ho da fare.